Sono tre gli avvisi di garanzia emessi dalla procura di Ragusa per la morte della donna di Pozzallo di 56 anni, Maria Occhipinti. L'incarico per la DOPSI è stato affidato al medico Francesco Cocco. L'ASPA ha nominato una commissione. Da Palermo a Ragusa sono stati 150 gli interventi dei vigi del fuoco in 24 ore per spegnere gli incendi che hanno divorato ettari di terreni e macchia mediterranea. Si è concluso in tarda mattina un vertice in prefettura a Palermo per l'emergenza incendi in cui era anche presente il ministro Angelino Alfano. Mare sicuro da domani fino al 18 settembre. La capitalina di Porto, come ogni anno, punta sulla prevenzione dell'incidente in mare e a un ordinato svolgimento delle attività nautiche e balnearie. Accesso al credito torneranno i bei tempi di una volta. E' il tema del confronto che si è tenuto la CNA di Ragusa. Ricordo della figura dell'ex presidente Pippo Tumino, avvenuta il 16 giugno di 6 anni fa. Ancora ben trovati in diretta. In apertura ancora torniamo anche oggi a parlare delle morti sospette sia all'ospedale maggiore di Modica che alla Maria Paterno Arezzo di Ragusa Ibra perché sono tre gli avvisi di garanzia emessi dalla procura di Ragusa per la morte della donna Pozzalese di 56 anni. Maria Occhipinti è deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale maggiore di Modica dove i medici del pronto soccorso le avevano diagnosticato una colica renale. L'incarico per l'autopsia è stato affidato al medico legale Francesco Cocco che proprio domattina effettua l'autopsia. L'ASPA intanto ha fatto sapere anche di avere avviato un'indagine interna con la nomina anche di una commissione. Vediamo tutti i dettagli. I nomi di tre medici del pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica sono stati scritti sul registro delle notizie reato con l'ipotesi di omicidio colposo. Sono i tre dottori che hanno visitato e dimesso con la diagnosi di una colica renale la 56enne Pozzalese Maria Occhipinti. Domani mattina è prevista l'autopsia sul corpo della donna nell'obitorio del nosocomio Modicano e sarà effettuata dal medico legale Francesco Cocco, nominato dal sostituto procuratore titolare del fascicolo Valentina Botti. Sono tre le informazioni di garanzia emesse per l'atto dovuto, considerato che per l'autopsia, che è un atto garantito, devono essere presenti gli indagati con i legali e i consulenti di parte, oltre alla parte offesa, cioè la famiglia di Maria Occhipinti. Lei è arrivata al pettia di Pozzalo lunedì con dolore all'addome, poi era andata al pronto soccorso di Modica e dimessa. Martedì intorno alle 14 è sopraggiunto il decesso a causa di un'emorragia cerebrale. Maria Occhipinti era già sofferente dalle 7 del mattino di martedì e quanto il 118 è arrivato, la 56enne era già in arresto cardiocircolatorio. I medici del pronto soccorso l'avevano dimessa senza sottoporla a un esame approfondito. Lo stesso copione, purtroppo, di Roberto Cannata, rimandato a casa tre volte per un virus intestinale, deceduto per un'occlusione che i medici non hanno mai diagnosticato, se non dopo un'attacca effettuata dopo il terzo ingresso in ospedale. Sulla morte di Cannata, l'inchiesta è ancora in corso con nove indagati. L'ASP, per bocca del manager Maurizio Ricò, ha nominato una commissione di cinque dirigenti per verificare eventuali responsabilità sulla morte di Maria Occhipinti e Luigi Annino, il 65enne di Cologno Monzese, sposato con una modicana, deceduto giovedì mattina a Modica nella sua abitazione dopo essere stato dimesso il giorno prima dall'ospedale Madri a Paterno Arezzo. L'uomo doveva sottoporsi, come disposto dai cardiologi del maggiore di Modica, a un'angiografia coronarica nel reparto di cardiologia, ma i medici ragusani hanno valutato e deciso di non sottoporlo a questo tipo di esame. Annino è morto il giorno dopo. Il direttore dell'ASP, Ricò, ha chiarito che l'azienda ha avviato un'indagine per chiarire i fatti e di non avere ricevuto alcuna comunicazione dalla procura. E non ha ancora chiarito il motivo per il quale i due pazienti non sono stati sottoposti a degli esami approfonditi. La Sicilia è completamente distrutta, devastata dagli incendi che da ieri mattina hanno bruciato ettari e ettari di terreni e macchia mediterranea. Da Palermo a Ragusa sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco, oltre che al corpo forestale. Da ieri a Monterossoalmo si sta lavorando per spegnere un grosso incendio, le cui operazioni di spegnimento a causa del forte vento sono rese ancora più difficili. Intanto a Palermo si è concluso un vertice in prefettura per l'emergenza incendi, al quale ha anche preso parte il ministro dell'interno, Angelino Alfano. Sentiamo Catiuscia Carpentieri. Brucia la Sicilia, da Palermo a Ragusa, l'isola è devastata dalle fiamme che hanno causato parecchi danni. In località Casa Stella, territorio di Monterossoalmo, le fiamme da ieri pomeriggio hanno continuato a bruciare per tutta la notte e sono ancora in corso. Un vasto incendio che sta bruciando l'alta vegetazione presente nella zona, sul posto è il Corpo della Forestale di Ragusa, la protezione civile, i volontari e i vigili del fuoco e dalle prime luci dell'alba di oggi che attivo un Canadair, il tutto coordinato dal direttore delle operazioni di spegnimento del centro operativo provinciale antincendio boschivo del Corpo Forestale. Sul posto anche quattro autobotti da mille litri e da tremila litri. Il forte vento che si è alzato questa notte ha alimentato ancora di più le lingue di fuoco che hanno reso impossibile lo spegnimento. Adesso le indagini che sono in corso accerteranno la matrice dell'incendio, anche se molto presumibilmente è di natura dolosa, così come sostengono gli inquirenti. Ieri anche Cava Salite, sempre in territorio di Monterossoalmo, era stata colpita dalle fiamme che per fortuna, nonostante il forte vento, sono state spente alle 21.30 circa. Intanto, sempre questa mattina, nella parte occidentale della Sicilia, sono stati ripristinati i collegamenti Palermo-Termini-Merese e Messina-Sant'Agata, oltre alla Palermo-Catania e alla Palermo-Agrigento. E quanto fa sapere RFI al lavoro con i suoi tecnici per ripristinare tutte le tratte che ieri a causa dei vasti incendi erano state interrotte. Un lavoro difficile per i vigi del fuoco in Sicilia, che hanno effettuato solo nella notte appena trascorsa 150 interventi. A Palermo, proprio per fronteggiare le emergenze incendi, è stato convocato un vertice in Prefettura, al quale ha partecipato anche il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che ha già visitato la sala dedicata all'unità di crisi avviata in Prefettura, oltre ai filmati degli incendi scoppiati ieri. La Procura di Termini-Merese ha aperto un fascicolo sugli incendi. Gli inquirenti, infatti, sono convinti che si tratta di incendi dolosi. Faremo un check-up completo per fare la conta dei danni degli incendi di ieri, ha detto Alfano al termine del vertice in Prefettura. Faremo un'immediata riunione con il Governo della Regione e i comuni interessati, ha aggiunto, per fare una valutazione dei danni e per dividerci i compiti di soccorso e intervento a sostegno delle comunità e delle persone che hanno perso i loro beni, oltre che un programma immediato di ripristino del verde andato distrutto. E parliamo ancora di cronaca perché ci sono altri arresti nell'ambito dell'operazione Transporter che è permesso ai carabinieri della compagnia di Modica di smantellare una rete di spacciatori stranieri. Ieri sera i militari dell'arma hanno rintracciato e fermato altri due degli indagati che finora erano stati irreperibili e arrestati per favoreggiamento anche due pozzalesi che erano in loro compagnia. Sentiamo Carmela Minardo. Nuovi sviluppi dell'operazione Transporter che ha portato i carabinieri a smantellare un gruppo di corrieri della droga, tutti di nazionalità straniera, che operava in provincia di Ragusa. Dopo i cinque arresti di ieri, altri due indagati che risultavano irreperibili sono stati individuati e fermati dai militari dell'arma. Si tratta di due tunisini, Saber Lamar e Mohamed Al-Amer, rispettivamente di 29 e 24 anni. Arrestati per favoreggiamento anche due pozzalesi, un uomo e una donna di 24 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine che si trovavano in compagnia di Saber Lamar. Questi ultimi l'avevano aiutato a sottrarsi alla cattura. I carabinieri che erano già sulle tracce di Lamar, dopo averlo intercettato mentre era in macchina con i due pozzalesi, l'hanno bloccato ed arrestato. Lo sviluppo delle indagini ha portato anche a individuare Al-Amer Mohamed. Quest'ultimo è stato arrestato a Grosseto, dove si era trasferito da qualche settimana. Era stata la morte del 42enne modicano Razio Damo per overdose a dare il via all'indagine che ha portato i militari dell'arma a smantellare la rete di corrieri della droga di nazionalità algerina, tunisina ed egiziana. 11 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti dei presunti appartenenti alla banda che gestiva lo spaccio di ascice ed eroina. Dopo il decesso di Adamo e militare dell'arma avevano seguito i movimenti di vari tossici dipendenti che hanno portato poi ad individuare diversi immigrati dediti all'attività di spaccio. L'operazione ha portato anche al sequestro di 2 kg di ascice e 300 g di eroina pura. Le indagini hanno anche condotto all'accertamento di oltre 30 episodi di spaccio avvenuti su tutta la provincia di Ragusa in particolare, oltre che nel capoluogo a Modica, Ispica, Pozzallo, Scicli e Santa Croce e Camerina località dove gli indagati gestivano i loro traffici grazie ai quali ricavavano cospicue somme di denaro che in parte serviva per il loro sostentamento e in parte veniva reinvestito per l'acquisto dello stupefacente. Dopo i fermi di ieri altri 4 indagati al momento risultano irreperibili. E dopo lo sbarco di ieri la polizia ha già fermato i due presunti scafisti che erano alla guida del gommone con a bordo 140 migranti alcuni di loro sono già stati trasferiti altri lo saranno nelle prossime ore sono in tutto dall'inizio del 2016 7.230 gli extracomunitari sbarcati a Pozzallo. Sono due presunti scafisti fermati e responsabili dello sbarco di ieri a Pozzallo come sempre fondamentali le testimonianze dei migranti che hanno subito segnalato chi fosse alla guida del gommone e chi invece si è occupato di seguire la rotta. I due dovranno rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver condotto il gommone sul quale vi erano 140 migranti. Si tratta di Disiani Dejana nato in Mali di 39 anni e Bayeror Fol senegalese di 27 anni dei 140 migranti approdate al porto numerosi bambini anche neonati e 38 le donne tra cui molte incinte. Circa 100 i migranti già trasferiti mentre gli altri lo saranno nelle prossime ore. Adesso si trovano presso l'hot spot di Pozzallo. Squadra mobile di Ragusa con la corabolazione dei carabiniere della Guardia di Finanza ha concluso le indagini in meno di 6 ore. Le indagini questa volta sono state molto semplici hanno detto gli inquirenti. I migranti in un primo momento intimoriti hanno però poi iniziato a collaborare rifarendo tutti i dettagli del viaggio. Il modus operandi è sempre lo stesso gli extracomunitari vengono prima lasciati in un capannone in attesa che le condizioni meteomarine siano favorevoli per poi imbarcarsi e iniziare la traversata. Hanno pagato 800 dollari. I due fermati dopo le formalità di rito sono stati condotti nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con gli arresti di ieri salgono a 74 gli scafisti fermati dalla squadra mobile di Ragusa dall'inizio del 2016. Dopo la notizia dell'inchiesta sul voto di scambio politico mafioso che vede 9 indagati Vittoria vive con apparente normalità le ultime ore di confronto elettorale in vista del ballottaggio di domenica. E al nostro microfono sentiamo a confronto i due candidati. Entrambi indagati per voto di scambio politico mafioso a Vittoria i due candidati in ballottaggio per la carica di sindaco vivono con ritrovata serenità le ultime ore di campagna elettorale. Aiello ha chiesto di essere interrogato ancora prima del voto certo di essere stato tirato in ballo per ritorsione da coloro che egli aveva denunciato per questo tipo di reato. Totalmente estraneo si dichiara anche Moscato il quale si dice certo anche dell'infondatezza delle accuse ipotizzate contro un candidato di una lista a lui collegata Cesare Campailla. Una situazione surreale anche per una singolare par condicio senza precedenti nella quale Aiello e Moscato cercano di recuperare i temi programmatici del confronto elettorale. Abbiamo tre priorità da affrontare immediatamente nei prossimi giorni scoglitti e l'imminenza dell'estate siamo dentro l'estate non siamo pronti ad affrontarla per quanto riguarda i servizi fondamentali per quanto riguarda tutto il resto e poi la questione mercantile il mercato di Vittoria chiamerò le forze sane del territorio a concorrere alla definizione di una linea per la legalità senza legalità questa città è morta. Io mi sono rivolto a tutti gli elettori a quelli che mi hanno votato e a quelli che non mi hanno votato abbiamo modificato anche il nostro programma inserendo alcuni punti programmatici del 5 Stelle perché hanno dei punti interessanti avranno certamente un'importanza una grossa importanza ma noi ci rivolgiamo a loro questo è il momento delle scelte o il vecchio o il sistema che dura da 40 anni o il cambiamento o una persona nuova. Nei primi 100 giorni abbiamo già previsto intanto la stagione estiva la manutenzione dello stato dell'impianto delle acque e refli a scoglitti manutenzione delle scolastici nei primi 100 giorni approvazione del regolamento del mercato ortofrutticolo e poi vogliamo portare nei primi sei mesi sia il nuovo piano regolatore che iniziare a pensare al bando per la raccolta differenziata. Rimaniamo ancora nell'argomento perché tutto il Partito Democratico Provinciale ma soprattutto quello di Vittoria esprime fiducia nel lavoro della magistratura e vicinanza al sindaco Giuseppe Nicosia al candidato sindaco Lisa Pisani e a Fabio Nicosia il PD scrive che sapranno fare chiarezza rispetto ai fatti contestati nelle informazioni di garanzia e interesse di tutte le persone coinvolte dell'intera comunità vittoriese che la Procura compia tutte le verifiche possibili al fine di accertare la verità così il Partito Democratico Un impianto di calcestruzzi provvisto della necessaria autorizzazione all'emissione in atmosfera è stato sequestrato dagli uomini della DIA La cave si trova ad Adrano nel Catanese e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria due uomini Stiamo battendo a tappeto tutto il territorio poiché queste cave forniscono materiale per opere pubbliche ha detto ai nostri microfoni il dirigente della DIA di Catania Renato Pambino Sentiamo Sara Donduso Dopo il sequestro effettuato qualche giorno fa a Lentini la direzione distrettuale antimafia di Catania ha portato a termine un altro sequestro questa volta ad Adrano Infatti nel proseguo dei controlli preventivi antimafia disposti al prefetto di Catania il gruppo Interforce istituito presso l'ufficio territoriale del governo di Catania ha proceduto al sequestro preventivo di un impianto di calcestruzzi poiché sprovviso è la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed è la relativa autorizzazione in violazione di quanto previsto alla normativa ambientale all'articolo 269 il personale del distretto minerario di Catania nel quadro dei controlli presso l'impresa di estrazione denominata Accra Group ha disposto l'immediata sospensione delle attività lavorative rilevando nella gestione dei due impianti di frantumazione esistenti all'interno dell'area della cava delle macroscopiche violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro oltre al sequestro dell'impianto sono stati segnalati all'autorità giudiziaria due persone un uomo classe 1945 e un altro classe 1936 amministratore unico della società calcestruzzi dell'Etna queste attività ovviamente sono preventive si chiamano preventive proprio per evitare le infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere pubbliche quella di Adrano che è stata appena fatta attività ha dimostrato che gli imprenditori non avevano alcuna autorizzazione e la cava è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria il medesimo provvedimento è stato effettuato nella città di Lentini perché i titolari non erano in possesso della stessa cava nell'ambito dell'attività anche lì invece in questo caso è stato trovato un escavatore oggetto di furto un'operazione dottore che non è ovviamente fino a se stessa il sequestro sulle cave parlava lei appunto di verificare che non ci sia alla fine la mafia dietro e che non ci siano rapporti con soggetti non leciti sì certo questo è soltanto un primo step poi il secondo step ovviamente viene fatto sui dipendenti e sui titolari delle imprese noi verifichiamo che gli stessi non abbiano dei contatti con esponenti di criminalità organizzata ma verifichiamo anche che non siano dei prestanome di gruppi mafiosi la polizia di stato di Ragusa entra in un noto bar-ristorante per prevenire il traffico di stupefacenti data la presenza di centenari di ragazzi che festeggiavano la fine della scuola gli agenti hanno però riscontrato che l'esercizio commerciale era stato trasformato in discoteca senza alcuna autorizzazione pensava di trovare un traffico di stupefacenti in un pub ristorante di Ragusa dove c'erano un centinaio di ragazzi e invece la polizia di stato ha riscontrato che i locali erano stati trasformati in discoteca senza alcuna autorizzazione una brutta sorpresa per il titolare del posto che è stato diffidato dalla divisione polizia amministrativa dal reiterare la condotta da lui tenuta preve sospensione dell'attività commerciale è successo la scorsa settimana durante i controlli del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti passando dunque davanti all'esercizio commerciale sono stati attirati dalla presenza di circa un centinaio di ragazzi i primi controlli non hanno portato a scoprire nessun traffico di droga o altri reati la polizia visto però la presenza di giovani studenti ha chiesto le autorizzazioni al titolare del locale oltre a identificare gli organizzatori della serata danzante gli addetti alla sicurezza erano regolari e muniti di autorizzazione mentre non vi era nessuna licenza per i trattenimenti danzanti il titolare gli studenti presenti avevano dichiarato che i cinque disc giochi erano presenti solo in qualche occasione ed avevano alzato il volume per fare ballare ragazzi dunque erano lì solo per la filodiffusione la polizia a questo punto ha intimato di cessare l'attività mentre tutte le persone coinvolte sono stati invitati negli uffici della questura il titolare dunque è stato denunciato perché non aveva nessuna licenza per trattenimenti danzanti mentre i minori sono stati segnalati alla procura della repubblica dei minorenni di catania il ragazzo invece che aveva richiesto l'autorizzazione alla siae è stato ascoltato come persona informata sui fatti ma ha detto che non sapeva che il locale fosse privo delle prescritte licenze la polizia tiene dunque a precisare che i titolari dei locali prima di organizzare serate danzanti devono chiedere le prescritte licenze per poi poter nominare la commissione di vigilanza che dovrà valutare l'idonietà dei locali i controlli della polizia continueranno vigilando in modo particolare sulla sicurezza dei locali pubblici frequentati dai numerosi minorenni sono stati identificati i responsabili dell'abbandono di cartone e mondizia vicino al palazzo della cultura a Modic le indagini sono state condotte dalla polizia locale hanno portato in breve tempo all'identificazione dei responsabili quali adesso verranno sanzionati dal via da domani l'operazione mare sicura 2016 finalizzata da assicurare a favore della collettività un servizio attivo e continuativo di vigilanza e controllo per la salvaguardia della vita umana in mare la tutela della sicurezza della balneazione e navigazione tutti i dettagli sono stati forniti questa mattina in conferenza stampa mare sicura da domani fino al 18 settembre la capitaneria di Porto come ogni anno punta sulla prevenzione dell'incidente in mare e ha un ordinato svolgimento delle attività nautiche e balneari uomini e mezzi impegnati H24 con un'incisiva opera di prevenzione e controllo e quando necessario di repressione a illustrare le modalità di intervento è stato il capitano di fregata Marco Tognazzoni sono tra i punti focali dove saranno impiegate le motovedette Pozzallo e Morena di Ragusa Scoglitti per monitorare con costanza tutto il litorale bleo a terra saranno presenti pattuglie automontate che effettueranno controlli negli stabilimenti balneari pubblici e privati dislocati sulla costa lungo le spiagge libere per la difesa dell'ambiente marino dagli inquinamenti provenienti da scarichi civili e industriali e per scongiurare la pesca abusiva dalla spiaggia in orarie zone non consentite il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 19 nella fascia di balneazione entro i 13 metri dalla costa il trend sul rispetto delle norme è in positivo ogni anno grazie all'operazione Mare Sicuro si lavora più per la prevenzione che per la repressione l'operazione Mare Sicuro è un'operazione importante per l'attività strategica della Guardia Costiera quindi per ogni cavine di porto nel territorio nazionale si pianificano degli interventi in mare che sulle spiagge con l'obiettivo di prevenire la repressione purtroppo è necessaria laddove comunque si combattono le infrazioni però posso dire con certezza che la nostra attività di prevenzione è molto utile anche per scoraggiare comportamenti non leciti e in vigore dal 30 maggio inoltre la nuova ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto che fornisce le istruzioni necessarie per svolgere in sicurezza e tranquillità ogni attività connessa alla balneazione questa ordinanza scaturisce dal frutto delle riunioni che sono state fatte a Catana e presso la direzione marittima e sono state uniformate determinate prescrizioni per tutte le camine di porto che insistono nella Sicilia orientale per segnalare tutte le emergenze in mare attiva il numero blu 1530 per il terzo anno consecutivo è anche attivo il servizio per i diportisti bollino blu è un bollo che permette di dimostrare di essere stato sottoposto al controllo delle autorità marittime dunque di evitarne un secondo mare sicuro ufficialmente inizia domani l'auspicio è che tutti rispettino le norme per trascorrere un'estate serena e sicura soprattutto in vista delle festività San Lorenzo e Ferragosto ci fermiamo per una breve pausa torniamo tra poco per la prima volta di rispettino di rispettino di rispettino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.